Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico svapo. Ogni tanto metto questa magliettina perché dobbiamo ricordare a tutti noi che lo svapo deve essere semplice e io, principalmente, sono uno svapatore semplice. Non lo dovrò mai, mai dimenticare. Come promesso, oggi torniamo in casa WP per parlarvi del secondo prodottino. Giorni fa avevamo parlato della Drag 3, oggi parliamo della versione nuova della Drag X in versione Plus che vi dà la possibilità di utilizzare sia 18650, una 18650 non inclusa la confezione, sia 21700, quindi una maggiore autonomia. Hanno inserito di default l'attacco 510, quindi vi arriva già con l'attacco 510, un nuovo porta pod con le TPP coil e TPP pod che abbiamo visto già sulle Drag. Insomma, il prodottino in questione è la Drag X Plus, il prodotto di cui andremo a parlare oggi. Adesso non vi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la din 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 din, e da un po' che non lo facevo, campanellina. Mi raccomando, seguiteci anche, venite a iscrivervi anche sul gruppo ufficiale di Unico Svapo, sul gruppo Telegram Unico Svapo Review, e noi ci vediamo subito dopo con questa nuova versione della Drag X Plus di casa WP. A dopo! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it boys! That's what I'm talking about! All you're met with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars, I hope you're ready for... Packaging in cartone per questa Drag X Plus di casa WP. In solpressione vi farò vedere tutte le altre colorazioni disponibili e all'interno della confezione troveremo manuale di istruzione in tutte le lingue e anche in italiano, cavetto USB Type C per una ricarica veloce 5V 2A e per l'aggiornamento della stessa Drag X Plus. 2 nuove coil TPP coil, andiamo a sblisterarle insieme, le avete già viste nella recensione della Drag X, avremo una TPP DM1 da 0,15 che va da 60 ad 80 Watt, il miglior utilizzo si ha tra i 65 e i 75 Watt, e una DM2 da 0,2 che va da 40 e 60 Watt, il miglior utilizzo si ha tra i 50 e i 55 Watt. Questo è il livello minimo indicato sotto il quale non dovrai mai scendere il liquido all'interno della pod, queste sono le due differenti maglie mesh all'interno della coil, notate che c'è parecchio cotone per entrambi, nuovo disegno per quello che è i fori di alimentazione del liquido, vedete hanno fatto due asole con questa parte di qua ad unire, e se volete vedere le differenze con le PNP coil andate a vedervi il video della Drag 3. Una pod da 5.5 ml con il suo portapod, che fa da adattatore 510 per far sì che possiamo montarlo su qualunque box, con attacco 510, CE, WPU, smaltimento, pin leggermente sporgente, andiamo a separarli in questo modo, questo è l'interno del portapod, con i tre contatti della coil, questa è la regolazione dell'aria, ha due asole contrapposte, non ha un inizio e una fine, e questo ci permetterà di andare a regolare l'aria a nostro piacimento. La pod invece da 5.5 ml è fatta in materiale plastico, adattatore TPP coil, disegnato da WPU. Sopra troviamo, novità, questo drip tip attacco 810, sostituibile, due gli o-ring di tenuta, nel vecchio o nel precedente PNP pod, non era possibile sostituire il drip tip, era un tutt'uno, sotto foro dove verrà inserita la megacoyle che vi ho fatto vedere prima, una delle due megacoyle che vi ho fatto vedere prima, e questa invece è la linguettina, che con lunghe andiamo a stappare in questo modo, e grazie a questo foro abbastanza ampio andiamo a fare il pieno, il refill di questa pod. Ho scelto di inizializzare questa coil da 0.20, andiamo a provarle insieme, utilizzerò questo liquidino 20.000 leghe sotto i mari, ormai sapete cosa penso di questo liquido, l'inizializzazione è importante, e come il petting l'ho definito in un video, perché permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato, e di essere anche più duratura nel tempo, basterà bagnare con un po' di liquido le asole laterali, queste qua, e poi andare a mettere un po' di liquidino nel forro centrale, in questo modo, così ruotate la coil, e il gioco è fatto, se c'è necessità di aggiungere altro liquido fatelo, non esagerate, e l'inizializzazione è fatta. A questo punto, prendiamo la pod, inseriamo la sua coil ad innesto, cercando di centrare quel pirulino centrale, così, perfetto, stappiamo, e andiamo a fare il refill, 5.5 ml. Fatto il piano, tappiamo, e adesso non ci resta andarlo a mettere sul suo porta pod, in questo modo, bollicine ci sono, la quale si sta alimentando per bene, ma questa nuova pod TPP possiamo andarla a montare anche sull'adattatore per le PNP coil, in questo modo, vedete, monta tranquillamente senza alcun problema, idem, le pod circolari PNP possiamo andarle a montare sull'adattatore per le TPP, e quindi praticamente sono intercambiabili, sia le pod, sia gli adattatori, ma non sono intercambiabili tra loro le coil. e andiamo a vedere velocemente anche la Drag X+, fatta in lega di zinco, in questa pelle similpelle, bella incisa la scritta Drag X+, lavorazione su questo lato, e anche questa piccola targhetta che ci ricorda che questa fa parte della serie Drag, molto, molto, molto bella, WP, frontalmente troviamo il tasto file, il display OLED da colori, tasto up, tasto down, presa type C, ricarica veloce, 5V 2A, è utile anche per aggiornare la stessa boxettina, gene chip, perché all'interno il tutto è gestito dal gene chip, sopra troviamo invece questa tazza con attacco 510, il pin è a molla, e sotto invece troviamo, c'è smaltimento, questa freccettina che ci indicherà di slidare in questo modo questo tappo, sollevarlo e accedere al vano batteria, negativo indicato sul vano batteria, all'interno troviamo anche questo adattatore che ci permette di utilizzare batterie 18650 oppure 21700, non c'è indicata la polarità sul fondo, andiamo subito a prendere una 21700, mi raccomando, la sicurezza è sempre al primo posto, usate batterie sempre bevvappate, in perfette condizioni, in questo caso qui vi faccio vedere, la wrap c'è, mi raccomando, quindi inserite la 21700, andate a pressare, così, perfetto, ben salda la batteria al suo interno, e vi faccio vedere che la box si accende tranquillamente, togliamola in questo modo, prendiamo la sleeve, la inseriamo con il positivo verso il basso in questo modo, prendiamo la 18650, anche questa in perfette condizioni, inseriamo dentro, chiudiamo, tutto ben saldo al suo interno, vi faccio vedere che si accende, anche con la 18650, adesso come prima cosa andiamo a montare la porta pod, con la sua pod, per farla ritornare ad essere un kit, è perfetto, la giro in questo modo, e vi dico anche le dimensioni, che sono 141 mm, per 35 mm, per 29 mm di spessore, va da 500 watt, ha un voltaggio di uscita che va da 3,2 a 4,2, il range della resistenza va da 0,1 a 3 ohm, e come avete visto, possono essere utilizzate 21700 o 18650, come sempre, come al solito, non incluse nella confezione, 5 clic sul tasto fire per accenderlo, 5 clic per spegnerlo, andiamo a vedere velocemente, anche il display, display identico alla drag 3, dove troviamo la scritta drag, la carica della batteria, la modalità smart, che ci permetterà di riconoscere in automatico, nel momento in cui andiamo a inserire la nostra pod, la coil che abbiamo inserito, e di suggerirci il vantaggio migliore per quel tipo di coil, in più il numero dei puff, gli ohm della coil, 0,20, vi ricordo che ho inserito una coil da 0,2, i volt in erogazione, i secondi di svapata, e la simulazione del tiro che andremo a fare, tasto up e tasto down insieme, e andremo a modificare quella che è la visualizzazione del display, siamo in iron, se vogliamo fare una visualizzazione landscape, andremo su core, e in questo modo avremo il display così, coricato, un po' tutte le funzioni restano, tasto file e tasto menu, insieme, andremo a cancellare il numero totale dei puff e dei tiri, tasto file e tasto up insieme, in questo modo, e andremo a bloccare sia il tasto file sia l'up che il down, lucchettino acceso di colore rosso, per sbloccarlo, sempre tasto file e tasto up insieme, perfetto, 1, 2, 3, e andremo a switchare dalla modalità smart alla modalità RBI, questa modalità andrà a svincolare il circuito, quindi qualunque coil noi andremo a inserire, saremo libri di decidere il vattaggio massimo che vorremmo utilizzare per quella coil, questa modalità è consigliata in momenti in cui non si utilizzano le coil proprietarie di WP, bensì atomizzatori con attacco 510, quindi avremo necessità proprio di andare a settare il nostro vattaggio, ma anche atomizzatori con coil prefatte, in cui il vattaggio non corrisponde a quello suggerito dalla stessa, questa drag x parte da 5 watt, e vi faccio vedere, sali di uno in uno e arriva velocemente a 100 watt dove avremo max power, 1, 2, 3, se siamo in funzionalità smart, vi faccio vedere se superiamo il vattaggio consigliato, andiamo a inserire la pod in questo modo, ce la riporta la 0,2 in automatico a 50 watt, se vogliamo salire con il vattaggio, nei momenti in cui supereremo i 60 watt, vedete ci dice max power, perché non ci permette di andare oltre, insomma, questo era un po' tutto, per ciò che riguarda questa drag x plus di casa WPW, e adesso non ci resta che andare a fare due svapate assieme, e scoprire cosa penso. Secondo me la giusta chiave di lettura che bisogna dare a questa drag x plus, rispetto alla versione precedente, è capire, pensare che la stessa WPW ha detto, cavolo, state sempre a chiedermi la rattatore 510, ho notato che in questi mesi i prodottini drag sono stati utilizzati spesso con l'attattatore 510, che vi permette, ci permette di andarci a montare sopra qualunque atomizzatore con attacco 510, WPW dice, ok, io ti tiro fuori un prodottino con attacco già 510, quindi una box vera e propria, dove hai la possibilità di utilizzare sia una 18650, e sia una 21700 per avere una maggiore autonomia, ti tiro fuori un nuovo portapod, che possa ospitare queste nuove TPP pod, e di conseguenza anche queste nuove coil da 0.15 e da 0.20, che funzionano da paura, ed ecco ti servita la drag x in versione plus. il costo, ve lo dico, grazie a Pietro sono riuscito ad andare a individuare alcuni siti italiani, che ce l'hanno già in pre-order, il kit così come lo vedete, così come l'avete visto nella macro, costa intorno ai 50 euro, solo la boxettina, solo la drag, senza l'atomizzatore, senza la pod, costa intorno ai 40 euro, non so se in pre-order, quindi non so se poi verranno aumentati o meno i prezzi, ma questi sono i prezzi di riferimento di questo prodottino, vi dico che con la 21700, ci ho fatto all'incirca 220-230 PAF, con la 18650, 150-160 PAF, quello è il range di durata e di autonomia, che vi regala questo prodottino, il prodotto è fatto bene ragazzi, ormai WPU ci ha abituato, a prodotti fatti veramente bene dal punto di vista estetico, non so se nel momento in cui andate ad aggiornarla, uscirà fuori anche la funzione controllo temperatura, in questi giorni andrò magari a fare l'aggiornamento, perché già sul sito della WPU è presente sia l'aggiornamento per questo prodotto, sia per la Drag 3, di certo so, perché quello che mi ha detto la WPU, che aggiornando la Drag 3 è riuscito ad avere anche il controllo temperatura, andrò a fare qualche test e capirò se è possibile, nel momento in cui aggiornerete anche questa Drag X, avere il controllo temperatura come funzione aggiuntivo. funziona smart, funziona bene, il circuito è quello, classico, GeneChip 2.0, quindi nuova versione del GeneChip, funziona bene, buona la gestione della batteria, vi posso dire che all'interno è tutto bene al solito, non fa rumori, i tastini non fanno rumori, il display si vede bene anche alla luce del sole, l'unica cosa che ho notato è che inserendo alcune 21700, io dentro ci ho messo una Golisi, che è leggermente più cicciotta, ho trovato un po' di difficoltà nell'andare a chiudere lo sportellino, quindi dovete prestare un po' di più, per il resto ragazzi, niente, funziona, funziona bene. Una cosa importante, a differenza delle PNP coil, che potevate abbassare un po' il vattaggio, per andare anche ad aumentare l'autonomia, e andare a migliorare magari quella che era la svapata, qui dovete stare con i vattaggi consigliati, perché se scendete già sotto, con la 020, già sotto i 50 Watt, per esempio, le coil iniziano a fare parecchia condensa, ma veramente tante, e quindi vi consiglio di stare sul vattaggio consigliato alla stessa WP, idem per la 015, anche il tiro, visto che sono delle coil abbastanza cicciotte, dovete fare uno di quei tiri cazzuti, bello imponente, importante, come questo. Perché se fate un po' un tiro sottotono, le coil tenderanno leggermente a, non dico allagarsi, comunque a creare un po' troppa condensa. l'aroma è spettacolare ragazzi, l'aroma è spettacolare, il vapore è corposo, grasso, parecchio grasso, cioè l'aroma mi sta dando veramente tanta tanta soddisfazione. Sono arrivato a superare gli 80 ml, anche con la coil da 020, e fino adesso problemi non me ne ha dato, quindi ragazzi, Drag X Plus, io la consiglio, assolutamente la consiglio ragazzi, veramente un buon prodotto. Certo, se poi stai a dirmi, ho le versioni precedenti, prendo questa, lì ci metto un grande punto interrogativo, perché bisogna capire se hai necessità di avere quella autonomia in più, che può regalarti una 21700. Quindi, lì starà a te decidere. Però il prodotto, come ormai ci ha abituato, WPW è fatto, veramente, veramente, veramente bene ragazzi. Quindi non mi resta che ringraziarvi per aver visto anche questa recensione, di ricordarvi di iscrivervi, come sempre al canale, di attivare la campanellina, quindi tutte le notifiche, di essere parte integrante attiva del canale Telegram, unico svapo review, trovi il link in descrizione, di seguirci anche sugli altri social, e come dico sempre, anzi no, come dirò da oggi, l'inizializzazione è come il petting, diffidate da chi non lo pratica in modo corretto. Ciao ciao, alla prossima!